Andiamo per ordine soprattutto con la prima, terribile, si va da Grigento al di là delle difficoltà logistiche, un campo dove immagino non avrai mai giocato perché è una neopromossa, nomi importanti per questa squadra che al primo anno ti ha dilettanti, nomi soprattutto importanti nel reparto esterno. Sì, come il campo non l'ho mai neanche visto perché non c'è mai stata possibilità di giocarci, sicuramente loro per essere una neopromossa perché hanno fatto una buona squadra, un buon quintetto, c'è gente esperta, erano partiti così così, sono ripresi, quindi vuol dire che anche loro hanno capito come devono giocare, come devono interpretare le partite. Andiamo lì, vediamo, noi siamo una squadra molto tosta, molto concreta e questo è un banco di prova, non dico fondamentale, ma è importante per vedere se anche in un campo più ostico di quelli che abbiamo avuto nelle altre due partite riusciamo ad esprimersi nella maniera che serve. Sicuramente il bilancio è positivo, quando fai quattro partite e vinci i quattro le cose vuol dire che vanno bene, vanno abbastanza bene, noi stiamo magari giocando benissimo nel senso dal punto di vista spettacolare, ti dico secondo me perché dal punto di vista della concretezza secondo me siamo già a buon punto, in quanto è una squadra che ha capito che bisogna difendere per giocare le partite di questo campionato, quindi da quel punto di vista lì secondo me siamo messi molto bene, poi se più avanti, come è giusto che sia, perché dopo un mese magari è difficile, saremo più brillanti, più spettacolari, ben venga, però già il fatto di essere così concreti a un mese all'inizio del campionato secondo me è una buona base, per quanto mi riguarda vengo da un anno dove ho riposato, quindi sono abbastanza fresco nonostante le tassi, ho voglia di far bene, questo l'ho detto, sono soddisfatto, però appunto così a fare meglio. La trasferta non è agevole perché tra Eri e Pulma si perde mezza giornata per andare lì, giocano anche in un campo che non è loro, per cui ci si sposterà anche il giorno della partita, squadra esperta per buona parte del quinteto, con giocatori che hanno avuto tanti anni di grande protagonismo in B1, parlo del playmaker Virgilio, pericolo pubblico numero uno, di Pennisi, parlo di Caprari che ha vinto il campionato più di qualche volta, qualche giovane interessante come Rotondo che è controllato da Biella e giocatori che hanno fatto la promozione della B2, per cui un buon roster, hanno speso, hanno ambizioni, però noi andiamo lì per vincere perché è una prova anche di carattere, è una prova per vedere che anche in un momento di difficoltà, perché le trasferte non sono tutte facili, questa è la più complicata, dobbiamo comunque giocare bene.